Uno dei problemi più difficili da contrastare durante una dieta è la sensazione costante di fame, a volte emotiva e a volte irreale, che può farci cadere in varie tentazioni rovinando tutti i nostri sforzi. È possibile evitare questa sensazione? È possibile evitare gli attacchi di fame? Vediamo insieme 5 trucchi che possono aiutarci. Non saltate mai pasti. Quando decidiamo di saltare uno spuntino o addirittura il pranzo, la fame aumenta e può diventare incontrollabile, portandoci a mangiare cibi ad alto contenuto calorico e in quantità elevate. Non andate a fare la spesa se siete affamati. Sarebbe terreno fertile per un attacco di fame che porterebbe all'acquisto di alimenti ad alto contenuto calorico e di zuccheri. Evitate i cibi che non vi piacciono. Seguire una dieta molto restrittiva con alimenti poco gratificanti non fa altro che aumentare il desiderio di alcuni alimenti che potrebbero mettere a rischio la vostra linea. Introducete sempre delle ricette gustose e concedetevi ogni tanto gli alimenti che vi piacciono particolarmente. Ad esempio se siete a dieta e amate la pizza ve la potete concedere una volta alla settimana prendendo una pizza marinara oppure una alle verdure. Fate spuntini che danno gratificazione. Ad esempio uno yogurt greco con le noci e il miele oppure barette a base di frutta secca o qualche quadretto di cioccolato. Saranno un valido aiuto spezza fame e vi aiuteranno a raggiungere il passo successivo senza difficoltà. Evitate di bere troppi caffè. La caffeina aumenta la tensione nervosa e può aumentare il rischio di un ulteriore attacco di fame. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un bel mi piace e iscrivetevi qui per rimanere sempre aggiornati.